Buona domenica, che l'amor, la pazza e la fede dal Signore entri in te vostre chiasi, tra vostri cur e che resti. Il Vangelo è l'Eckel di Luca. In che volte si sono svicinati a Gesù, un po' di Sadduceo, che dice che non c'è la risurrezione, e hanno domandato «Mestri, Mosè non si ha ordinato che se uno al muro lasse la femmina senza frutti, soffrati quando sposare la fede e dare una discendenza a soffrati. A ieri dunque siete frati, il primo si è sposato e ha muerto senza frutti. Allora, la chiulta è il secondo e poi il terzo. E così tutti siete hanno sposato che vedo è, due che sono morti senza frutti. Poi, è morto anche la femmina. Questa femmina, quanto i morti ha risurrato, di cui sarà la femmina? Perché le hanno vado per la femmina tutti siete? E Gesù ha rispondito. I figli che smontano a chiulino femmina e a chiulino omp. Ma quei che sono ritornati dentro del mondo che avvignarà e della risurrezione dei morti non a chiulino né femmina né omp. Loro non possono poi morire perché sono compagni degli anni e sono figli di Dio diventati dentro di risurre. Che i morti poi risurranno, lo ha detto anche Mosè a riguardo dal baracciarla, che ha detto che il Signore è il Dio di Abram, il Dio di Isaac e il Dio di Jacob. Dunque, Dio non è il Dio dei morti, ma dei vii, perché tutti avevano il Dio di lui. Però, dal Signore, questo è grande, questo colpe veramente. Ma allora, qui sono i Sadducei? Avevano l'alta hierarquia dei predis, lecchi che avevano in mano i templi. Avevano in mano la religione e i bens e, siccome che stavano bene in questo mondo, non credevano a la risurrezione. Per loro, Dio aveva premiato in questo mondo col paradiso che stava bene, perché loro si erano comportati bene e, di conseguenza, non comentaavano che altre vite. i Sadducei, di conseguenza, potrebbero essere anche noi, quando non pensano all'al di là, all'eduto qua, di olimpico e potrebbero essere così. Ma potrebbero essere i Sadducei anche in un'altra forma. Quando, di fatto, vedono delle cose che succedono in questo mondo, e dalla Isra, il Signore mi diceva che aveva morto di 4 anni. io non credo più in Dio. Ma ci ha fatto di fare. Ho sai che al vento dico così, perché un amare, un compagno che aveva un figlio che è morto anche a quel, mi ha detto io non credo più in Dio. Ma dopo, se non credo in Dio, non esiste neanche altre vite dopo. Hai capito? E si è Sadducei anche in che forma lì. Allora, chi è benedetto? E credevano così. Ma esistevano anche i Farisei che credevano che dall'al di là era la Resurrezione. Ma, di fatto, la Resurrezione ci portava a una vita come questa, senza sofferenza, senza dolore, senza fastidio. Che era la vita dopo per i Farisei? E i Sadducei credono che Cristo crede in la Resurrezione come i Farisei. Sicché là di là, dato che la vita di dopo è come checa di qua, là di là si comporta siccome qua. E ieri siete fratelli che hanno sposato un alla volta questa femmina e Fros non nascevano, in modo che un dopo che l'altro l'avevano sposata. E, tal ultimo, di cui sarà la femmina? Perché l'avvenuto per la femmina del 27, ecco, loro in pratica mettono in ridicolo il concetto stesso di la Resurrezione che hanno i Farisei. Ma Cristo non ha il concetto, l'idea che hanno i Farisei della Resurrezione? Dice che i figli che si montano e ci hanno la femmina, ma chi è che sono ritornati dal mondo che avvennerà? Non ci hanno la femmina, ma di conseguenza Cristo dice che là di là hanno dovuto un'altra vita, differente da qui. C'è l'idea che io ho già detto che non l'esperienza di perdere una vita per vent'un'altra l'avevano già fatta con la nascita. Di fatto, perché la vita che aveva dentro le panze dei nostri mari era dal tutto differente da quello che avevano. E lui ha detto la stessa cosa che la prossima vita, che è dopo dei nostri, c'è un'altra vita, dal tutto, provate a viodi, anche dal battesimo si dò per la chiandella, no? Provate a viodi. So viovi in la cera che prima è fredda e dopo plan plan che diventa chialda. Quando va sotto il pavere, allora la cera è una forma di cera, una forma di vita di cera. Quando va sotto il pavere, la cera è diventata l'uso e calore che è tutto un altro modo di cera, dal tutto differente. stessi discorsi può dare sfalu anche per quello che riguarda la semence e la planta che nasce dopo di semence, che non è semence, che però è la stessa vita che si è sviluppata di semence all'arbre, alla planta. non puoi morire, ma per farci, se non muori, allora non si sposi, perché non si sposi se non si muore, perché si sposi per fare frutti. Ci sono cose di risurre come il figlio di Dio che ha dato una vita che non muore mai mai mai. E dopo che noi avevamo domandato, lui ha risponduto, di là che aveva chiesto la risurrezione, venga dall'amore di Dio. Perché che il Dio covino a lui, non puoi disminere a chi che avrà voluto bene. E al dire fu proprio di Mosè, dato che loro avevano interesso Mosè con la legge del sposare la vedua senza figli, al dire fu proprio un'altra volta per dire che Dio non è il Dio dei morti, ma dei vici. E tant'è vero che si clama col nome di quei che lui avrà voluto bene e che non l'ha potuto disminere. Ma io ha con sé Dio di Abram, Dio di Isac, Dio di Jacob. Il suo amor non può lasciare morire i suoi amici. Ma c'è l'ha, che anche dal nostro modo di dir fu l'ang. Quando diciamo Pierino di Rine, c'è quello che dice. Rine ha la maria di Pierino e allora vedete qual è un rapporto di amore. Pierino di Rine si uniscono i due nonni. Oppure Pierino o Rino di Pierine, che ha due che si sono sposati, anche i due nonni. Uniscono i due non si uniscono i rapporti di amore. Bene, il nostro Dio non arriva a dire il suo non c'è non c'è di dire il nostro non. Tignite a me che cosa c'è. Perché lui non arriva assolutamente a disminere che i che avrà voluto bene. Allora, al di San Paolo, c'è che vuole non l'ha mai veduto e non l'ha mai sentuto e non l'è mai entrata al cuore di un uomo. Questo lo ha preparato il Dio per quei che i vogliono bene. Ecco, questa è la vita. Ma attenzione, questa vita è una nuova età che è già caduta. Perché il Dio dice, come tale, il Signore, in questo mondo, dove di noi sempre, ha fatto il modo che dove c'è il sapore della morte, dove c'è la sofferenza, i fastidi eccetera, e può inviare al manco l'ampliamento, la crescita di comprensione e di queste vite. All'è il Dio dei viti, anche, che non si chiude già qui. Perché la morte e la resurrezione fanno parte della vita sempre, anche qui. E allora, come ho prego? Dal nome del Padre, del Fino e del Spirito Santo. Amen. Signore, tu ti assicuris che come che gli è vera la morte, gli è vera anche la resurrezione. Tu ti dici che Dio non è il Dio dei morti o dei vecchi che sono per spesso, ma che è anche il Dio dei viti. Allora, è anche il Dio di tutti noi così viviamo nel mondo. Perché tu ti assicuris e tu facisci tutto, perché io ti senti in donne, in modo che la nostra vita è diventata un vivi in compagnia con te, come che tu, tu vivevi scolpari. Così, quando arriverà anche per noi il momento di passare di questo mondo, o arrivare in a imbrogare la morte che vuol portare via la vita. Dicendo a te, testo sman, Signore, o mette la mia vita. Amen. Allora, non credi all'al di là, all'ordine perché ci vuole, all'e come una luce che butti la soluzione sul presente, questa speranza. Provate a pensare che l'al di là non le nuie. Si distrugge ogni speranza, sul serio. Allora, vi auguro veramente di non tornare a coppare i vostri smuards, col no pensare all'al di là, col no ricordare, col no preare. perché no, ho sempre in contatto continuo con quei che sono stati, con quei che vivono e con quei che venneranno. E ho vinto di sentire la nostra vita così grande che abbraccia tutta la storia, in quel Dio che non sa pensare di quanto all'esiste lui, di in che volte ho esistito, pensai due altre, importanti così. E allora non esiste dove c'è che si vive, anche c'è che si crede. Buone domenie mandi.